Allora, buongiorno a tutti, grazie di essere ancora qui a questo ultimo incontro del Festival di Statistica dell'Istat in questa sua settima edizione a Treviso, una tavola rotonda conclusiva dedicata al tema forse dei temi, cioè pandemia, demografia e che futuro aspettarsi dopo questa incredibile vicenda che ci è accaduta, questo passaggio pandemico ancora in corso tra l'altro, non sappiamo quali esiti avrà. Ne parliamo con tre ospiti importanti, Alessia Melegaro dell'Università Bocconi di Milano, direttrice dell'unità di crisi che è stata costituita per Covid-19. Un analista quantitativo, ha letto nel suo profilo, si è occupata per lunghi anni, anche a livello internazionale, di analisi quantitativa delle dinamiche dei fenomeni epidemiologici. Quindi, senz'altro partiremo da lei per capire questa qui, che epidemia è, perché è diversa dalle altre, in che modo è diversa dalle altre, che cosa abbiamo fin qui imparato da questa epidemia da coronavirus e che cose invece ancora non sappiamo. E poi affronteremo uno dei temi che in qualche modo è stato ricorrente in molte tavole rotonde di questo festival, cioè quello della globalizzazione, in che modo il Covid-19 è impattato sulle dinamiche globali, cercando di fare un ragionamento con Salvatore Strozza dell'Università di Napoli, sulle dinamiche dei flussi, dei flussi di migranti. Lui è uno degli analisti che ha dedicato il maggior contributo a questo tipo di fenomeni, recentissimo un suo volume sui flussi migratori a 25 anni dalla caduta del blocco sovietico, di recentissimo lo cito perché ho visto che è appena uscito e io per primo sono molto interessato a questo tipo di pubblicazione. E infine con Alessandra Minello affronteremo i temi, diciamo che in qualche modo sono la risultante immediata di un fenomeno come quello che ci è accaduto, cioè in che modo cambiano o possono cambiare o pensiamo cambieranno i comportamenti riproduttivi, in che tipo di impatto potremmo aspettarci o abbiamo la possibilità di misurare sui tassi di mortalità dopo un passaggio epidemico di questo tipo e insieme quali politiche di conciliazione sono auspicabili o già in campo, quali esempi sono interessanti da seguire per cercare di in qualche modo convivere meglio in questa specie di coda lunga che abbiamo dopo le quarantene e che dovremo continuare a utilizzare in tutti i contesti lavorativi e sociali appena questa è la settimana, si chiude la prima settimana scolastica con tutte le implicazioni che appunto questa situazione ci costringe a vivere. Allora io partirei senz'altro da Alessia Maligaro, la domanda è ovviamente quella che dicevo prima, cioè in che modo questa epidemia è diversa, che misure siamo riusciti a fare di questo fenomeno e che cosa abbiamo imparato fino adesso? Salve a tutti, allora l'epidemia è diversa per definizione, nel senso che tutte le infezioni, in partire con questo, che forse non eravamo consapevoli di questo aspetto, ma tutte le infezioni sono diverse l'una dall'altra e quindi nel momento in cui arriva una nuova infezione, arriva una pandemia, un'epidemia, bisogna fare i numeri e fare i conti con l'incertezza, col fatto di non avere a disposizione subito nei tempi rapidi delle prime sviluppi informazioni su quelli che sono i parametri epidemiologici fondamentali, che sono il famoso numero di riproduzione, l'R0 e RT di cui abbiamo tanto sentito parlare, che sono i tempi di incubazione, l'intervallo seriale, ovvero il tempo, la durata tra un caso e successivo, che sono tutte quelle variabili che aiutano a capire e poi anche a modellizzare la diffusione e diciamo la tempistica dell'evoluzione dell'epidemia messa in una popolazione come era la nostra completamente suscettibile. Quindi una volta che Covid è arrivato e una volta che ci siamo accorti che era arrivato nella nostra popolazione, nella popolazione italiana, la fase iniziale è stata una fase in cui si sono andate a costruire informazioni sulla base del dato che si costruiva ogni giorno, quindi uno sforzo incredibile che probabilmente dal punto di vista diciamo del pubblico e dei cittadini non sempre è arrivato, però uno sforzo incredibile è cercare di quantificare tutti questi parametri importanti attraverso l'osservazione di quella che era lo sviluppo dell'epidemia, il dato epidemico. Anche quello purtroppo idealmente noi vorremmo avere dei sistemi di sorveglianza che sono sempre diciamo pronti ad accogliere emergenze di questo tipo, però nella realtà dei fatti appunto ogni emergenza ha la sua storia quindi anche nel caso di Covid abbiamo avuto bisogno di un po' di giorni, un po' di settimane per rodare tutto quello che era il sistema di monitoraggio e di valutazione di quello che sarebbe potuto essere, al di là ovviamente dell'impatto sul sistema sanitario. Ecco, dal punto di vista della vostra modellistica, della modellistica che viene utilizzata per analizzare questo tipo di fenomeni, questa volta diciamo siamo stati presi di sorpresa, ci abbiamo messo più delle altre volte a capire la dimensione di questa epidemia oppure invece i modelli hanno funzionato? Io penso che i modelli abbiano funzionato e anche bene, ci sono state delle pubblicazioni che sono uscite a tempo di record e che hanno fatto vedere le proiezioni di un'infezione con quelle caratteristiche che si stavano osservando proprio giorno dopo giorno, queste proiezioni nell'arco di un periodo diciamo di due mesi senza nessun tipo di intervento, con i vari interventi e le proiezioni poi si sono rivelate essere abbastanza vicini a quella che è stata poi la realtà dei fatti. Il contagio funziona, se vogliamo, in modo abbastanza matematico, una volta che si sanno i parametri e una volta che la popolazione, soprattutto all'inizio delle pandemie, la popolazione è completamente suscettibile, è proprio la soluzione di un sistema matematico che ci dice come si evolverà l'infezione. Poi chiaramente interviene tutto quello che è l'aspetto del comportamento umano, degli interventi pubblici, eccetera, che modificano l'andamento naturale dell'epidemia e quindi spostano la proiezione rispetto ad una proiezione senza interventi e quindi poi bisogna osservare quanto siano stati efficaci le varie misure e da lì poi parte un secondo lavoro di programmazione e pianificazione delle strategie più efficaci sulla base di quello che è successo. Ecco, sempre dal punto di vista della lettura quantitativa del fenomeno e della sua dinamica nei primi mesi di sviluppo e di diffusione, i dati che siete riusciti a raccogliere e a utilizzare per leggere e misurare questo fenomeno, sono dati in qualche modo armonizzabili, comparabili? Cioè il fenomeno è, per esempio, è stato letto con le stesse metriche, con lo stesso modello in Italia e nel Regno Unito piuttosto che in altri paesi europei o ci sono state delle differenze, degli impatti diversi. In particolare il Regno Unito e Italia hanno utilizzato modelli veramente molto simili per le proiezioni che poi sono andate, diciamo, nelle mani dei policy maker o dei vari istituti, dipartimenti di sanità, sono modelli epidemiologici, compartimentali, vengono chiamati, che sono tipici per lo studio di queste infezioni e quindi anche il, diciamo, il confronto tra le proiezioni è abbastanza armonizzabile. Chiaramente in ciascuno di questi modelli, adesso pensando anche più estensivamente in ciascuno di questi modelli, è sufficiente cambiare un'assunzione o un parametro che il risultato cambia e che quindi le cose diventano meno confrontabili e sono usciti tanti modelli alla fine sia in Italia che all'estero, quindi chiaramente il confronto va fatto con giudizio perché altrimenti non funziona. Ecco, non so se il paragone è appropriato, ma immagino facendo un esercizio un po' di now casting, cioè cosa succede ora e che cosa succede da qui ai prossimi mesi, il vostro tipo di lavoro che risposta dà in questo momento? Siamo in osservazione, il modello sta stimando un tasso di riproduzione che è uscito intorno all'uno, questo famoso RT e quindi ci sono oscillazioni, non c'è una, in Italia sto parlando, non ci sono crescite diciamo rapide, c'è proprio un'oscillazione intorno all'uno e adesso la grande domanda è quella dell'apertura delle scuole e di valutare l'impatto che questo avrà nella trasmissione, perché di fatto aprendo le scuole si attivano tutte quelle catene di contagio extra familiari che amplificano di moltissimo la diffusione di un'infezione nella comunità. Ecco, da questo punto di vista, visto che questa è la prima settimana diciamo di apertura delle scuole, poi chiusura perché si vota il 20 e il 21, è stata anche in qualche modo oggetto di polemica questa questione, tra quanto tempo si vedrà l'effetto apertura delle scuole sulle curve delle infezioni a venire diciamo? Direi verso fine settembre, c'è sempre un lag di un 10-14 giorni più o meno dalla raccolta del dato, costruzione del dataset proprio e quindi poi stima di quelli che sono i parametri, quindi le stime che vediamo oggi risalgono al dataset completo fino a inizio settembre, bene o male. Quindi ecco, quello che succederà questa settimana qui lo vedremo tra un paio di settimane. Io per ora ringrazio la professoressa Mela Garo e ovviamente torneremo con lei a parlare di questi temi, ma chiedo a Salvatore Strozza che è l'Università di Napoli, dicevo in apertura uno degli studiosi che ha dedicato in particolare la sua attenzione di ricerca scientifica ai flussi migratori, intanto se lui è d'accordo una prima valutazione su che tipo di impatto abbiamo visto o avete potuto vedere in questi mesi di pandemia sui flussi migratori in entrate e in uscita nel nostro paese? Sì, allora in realtà non è ancora passato un tempo sufficiente per poter fare un resoconto di quello che è successo nei mesi trascorsi. Lo dico in senso complessivo, per esempio per capirci, parliamo di migrazioni internazionali, nelle migrazioni internazionali sapete che l'Italia è ormai da alcuni decenni anche un paese di migrazione con un flusso importante. Se ci fermiamo ai flussi che abbiamo registrato nell'ultimo anno, termini di iscrizione anagrafica dall'estero di cittadini stranieri, vediamo che in realtà sono arrivate nelle anagrafi italiane qualcosa come 270.000 persone, 270.000 stranieri a fronte di partenze che si aggirano intorno alle 60.000. Allora questo fa sì, meno di 60.000, che il saldo migratorio del 2019 sia di circa 200.000 persone. Quello del 2020 lo conosceremo in dettaglio l'anno prossimo, più o meno a metà anno. Però dei segnali evidentemente ci sono, soprattutto con riguardo da una parte del fenomeno, ad alcuni aspetti ben precisi. È evidente che però, io ho parlato dell'immigrazione in suo complesso, quindi con delle cifre ben precise, negli ultimi 5 anni noi abbiamo anche sperimentato qualcosa come 490.000 sbarchi, cioè persone salvate nel Mediterraneo che poi sono state portate sul territorio italiano e alcune sono andate via, altre hanno iniziato il processo, il percorso verso l'ottenimento di una condizione di rifugiato, comunque di una qualche forma di protezione, altri è stato rifiutato, eccetera, eccetera. Comunque quel flusso ha rappresentato in questi 5 anni più o meno un terzo del flusso complessivo, dell'ipotesi in cui immaginassimo che tutti poi finiscano in anagrafe, cioè rientrino nell'immigrazione stanziale, quella a lungo termine. Ecco, di questo collettivo i flussi più recenti degli ultimi due anni erano veramente contenuti e se guardiamo a quello che è successo nei primi mesi di quest'anno ci accorgiamo che dopo il mese di febbraio c'è stata una drastica riduzione degli sbarchi, in particolare nel mese di aprile e poi sono ripresi lentamente. Collegati agli sbarchi che in una parte non trascurabile dei casi fa riferimento a persone che sono potenziali richiedenti una qualche forma di protezione internazionale, bene, collegati agli sbarchi ci sono quindi anche le richieste di protezione, le richieste di asilo, anche le richieste di asilo in particolare nel mese di aprile si sono ridotte sensibilmente. Allo stesso tempo anche il paese si è fermato in qualche modo, comunque ha rallentato e di questo nei decreti che sono usciti tra aprile e maggio se ne è tenuto conto. Cosa è successo? Allora per esempio si è ridotto enormemente anche il numero delle decisioni prese rispetto ai richiedenti asilo che per esempio nel mese di aprile sono state in tutto 250 quando erano 7.000 sia a gennaio che a febbraio per capirci. Queste sono proprio dimensioni, però riguardano un segmento del fenomeno. Il segmento delle migrazioni in prevalenza potremmo definire forzate. Poi c'è tutta la componente delle migrazioni per lavoro ed è tutto un altro tema. Tra l'altro su questo secondo fronte, cioè quello delle migrazioni per questioni di lavoro, un dato interessante che aspettiamo di poter leggere è quello relativo alle regolarizzazioni, quelle previste dal decreto rilancio che è stato varato durante il mese di luglio e che prevedeva all'articolo 103 la possibilità di regolarizzazione sia per lavoratori extracomunitari sia per comunitari e anche per lavoratori italiani che fanno lavori domestici o lavori legati all'agricoltura. Ecco, non so se già ci sono dei dati, se già può dare un'anticipazione di lettura di qualche dato amministrativo di quel tipo. Certo, in realtà le domande si sono chiuse, il termine ultimo per la presentazione della domanda era la mezzanotte del 15 agosto. Quindi si è chiuso il periodo di presentazione delle domande e il Ministero degli Interni ha fatto uscire rapidamente, nel giro di due giorni, l'ultimo dei rapporti che erano già usciti periodicamente ogni 15 giorni e è quello definitivo. Per quanto riguarda i lavoratori non comunitari, ci sono state in totale 207.500 domande. Le domande sono presentate dai datori di lavoro e riguardano esclusivamente i settori previsti per la regolarizzazione che sono praticamente il settore primario, agricoltura e pesca per capirci e ancora la cura e la collaborazione domestica, cioè in sostanza il settore dei servizi alle famiglie. Questi sono i tre comparti, agricoltura, cura e lavoro domestico, che sono stati previsti per la regolarizzazione dopo un dibattito parlamentare abbastanza intenso, perché non si capiva perché non estendere il provvedimento anche a altri settori, anche se questi sono settori in cui contemporaneamente, oltre a esserci una componente importante di lavoratori non regolari, forse ci sono anche maggiori rischi per le condizioni di vita delle persone. Le motivazioni infatti erano sostanzialmente due, quelle finali che hanno portato alla stesura di questo articolo 103 del decreto rilancio e un'era sanitaria evidentemente e l'altra ovviamente economica, tenuto conto appunto che anche i flussi temporanei erano sostanzialmente sospesi, anche gli stessi flussi irregolari, ma c'era un bacino di irregolarità presente sul territorio. Dicevo in totale 207.500 domande, di cui 176.000 per lavoro domestico e assistenza alla persona e 30.700 per lavoro subordinato nel settore agricolo. Quindi abbiamo già questa informazione, a queste si aggiungono poi ulteriori 13.000 domande, queste invece, come dire, sottomesse da parte degli stranieri, 13.000 domande per persone che avevano permesso scaduto dalla fine di ottobre del 2019, che erano presenti l'8 marzo del 2020 in Italia, che quindi hanno potuto chiedere una proroga del permesso, un rinnovo del permesso per sei mesi, trasformabile in permesso per lavoro nel momento in cui ci fosse stato un incontro appunto con la domanda di lavoro da parte delle imprese o delle famiglie. Quindi un totale di 107.500 più altre 13.000, circa 120.000 domande di regolarizzazione che riguardano in particolare i lavoratori extracomunitari. Non abbiamo ancora informazioni invece sulle domande che sono passate attraverso l'Inps e che riguardano sempre per questi stessi settori i comunitari e gli italiani. Professore, questa regolarizzazione è una regolarizzazione che avviene ovviamente in un contesto completamente anomalo, un outlier rispetto al passato, però è anche vero che sono un po' negli anni le ultime regolarizzazioni. Da questi dati che tipo di intervento di policy sui lavoratori stranieri presenti in Italia non regolarizzati si possono trarre? Immaginiamo al più presto possibile una normalizzazione della situazione, un punto della situazione dal vostro osservatorio. Sì, allora in realtà va detto che erano otto anni che non c'erano più regolarizzazioni, ma il termine otto si ripete perché in passato c'erano state otto importanti regolarizzazioni o ancora decreti flussi di fatto trasformatisi in regolarizzazioni. Quindi un'esperienza passata importante, regolarizzazioni straordinarie che poi sono diventate periodiche e sostanzialmente la gestione del flusso dell'immigrazione per lavoro e di quella poi connessa per ricongiungimento familiare di fatto è stata gestita a posteriori con questi interventi straordinari. Non c'è dubbio, c'è bisogno che tutto il fenomeno migratorio sia gestito come un fenomeno normale e strutturale del nostro paese. Questo significa che per esempio negli ultimi otto anni di fatto non ci sono stati più accessi per lavoro. Il decreto flussi almeno per il lavoro stabile è sparito, è vero che siamo stati in una fase della crisi, ma poi anche la crisi è stata superata, è vero anche che ci sono dei settori in cui ci sono attività lavorative essenziali svolte prevalentemente dagli immigrati e allora forse c'è bisogno di rilanciare la programmazione dei flussi per lavoro. In passato esisteva anche la possibilità di accedere in Italia per ricerca lavoro e questo è un altro aspetto che forse va preso in considerazione, questo limiterebbe anche gli arrivi e gli sbarchi incontrollati e le morti nel Mediterraneo probabilmente, quindi una gestione dei flussi che sia nell'ottica di gestire ex ante e non a posteriori qualcosa che sembra che si stia subendo. Allo stesso tempo questo ridurrebbe, tra l'altro se fosse prevista, ma questa è una mia idea, sul modello passato, ormai di diversi anni fa, francese, la regolarizzazione permanente, nel momento in cui ci sono sul territorio italiano persone in condizione di irregolarità, già succede perché ha un permesso di altro tipo la trasformazione in permesso per lavoro o da lavoro stagionale a lavoro permanente, beh ma nel momento in cui ci sono persone che hanno un contratto di lavoro come succedeva nel modello francese degli anni 60 e inizio anni 70, in realtà ci dovrebbe essere la possibilità di una regolarizzazione continua che riduca il serbatoio dell'irregolarità e garantisca condizioni di vita decenti e di lavoro. D'altro penso in particolare ad alcuni fabbisogni, cioè alcuni tipi di domande di lavoro di questi migranti che vengono nel nostro paese, in particolare penso all'assistenza alla persona, alla famiglia, ne parleremo tra poco anche con Alessandra Minello, ma ecco, avete avuto una, vi siete fatti un'idea di paesi che hanno subito più fortemente una riduzione di flussi, cioè ci sono dei paesi di provenienza che hanno in qualche modo chiuso con l'Italia in questi mesi oppure no? In realtà dai dati disponibili non c'è modo di fare questo tipo di approfondimento, è evidente che tra l'altro stiamo parlando di quelli che dovrebbero essere i flussi governati e in special modo quindi penso a, è supposto, ora lo verificheremo a breve, la riduzione dei nuovi permessi di soggiorno concessi nei mesi scorsi, no? E se noi teniamo presente che il 50% dei permessi di soggiorno concessi negli ultimi 5 anni, scusate torno al 5, 50% negli ultimi 5 anni, no? In realtà sono per motivi di famiglia, è evidente che c'è tutto un segmento dei ricongiungimenti in particolare che si è fermato e che riguarda diverse parti del globo perché tra l'altro abbiamo, lei prima parlava di globalizzazione, abbiamo una presenza straniera che è un chiaro segnale tra l'altro della globalizzazione delle migrazioni oltre che delle economie che invece la pandemia evidentemente frena, blocca insomma in questi mesi. Certo, certo, tra l'altro proprio all'inizio, nei primi mesi della crisi abbiamo visto le auto quarantene delle comunità cinesi in Italia che tornavano dalle festività della fine del loro anno, questo mi sembrava un elemento eclatante di globalizzazione che è in corso e io direi che non faccio parte di quelli che pensano che questa crisi metterà in discussione le dinamiche di globalizzazione. Un'ultima cosa che le voglio chiedere prima di passare alla professoressa Minello, invece le migrazioni degli italiani all'estero in questi mesi, cosa è accaduto se è accaduto qualcosa? Penso si parla, diciamo il tema ricorrente e costante è quello dei nostri giovani che vanno all'estero dopo un percorso formativo importante ma non sono solo loro, ci sono anche quelli che vanno semplicemente per trovare una prospettiva di vita e lavoro diversa. Che cosa avete letto? In realtà lei mi pone una domanda che anch'io pongo a me stesso e pongo ai colleghi che si occupano di questo tema con l'idea che sarà possibile dare risposta nei mesi a venire, in realtà invece guardando indietro al passato e arrivando a malapena al presente si può capire come si ha cambiato in modo significativo il quadro italiano, paese di immigrazione che è ritornato a essere anche un paese di emigrazione per quanto riguarda i flussi degli italiani, pensiamo che tra il 2005 e il 2009 i trasferimenti della residenza all'estero di italiani erano stati 200 mila, sono diventati 330 mila nel quinquennio successivo, 575 mila nell'ultimo quinquennio, cioè tra il 2015 e il 2019, con un saldo migratorio sempre negativo, prima era di 30 mila, poi di 180 mila nell'ultimo quinquennio di quasi 350 mila persone, quindi una cosa importante, nel 2019 gli italiani emigrati erano stati 126 mila e quelli rientrati quasi 73 mila, sia chiaro, sto parlando solo del dato ufficiale anagrafico che riguarda potremmo dire le emigrazioni a lungo termine e che alcuni criticano perché forse non comprende nemmeno tutte le emigrazioni a lungo termine, non riesce a cogliere tutto per via delle registrazioni posticipate e così via. Quindi indubbiamente è un fenomeno importante, la chiusura delle frontiere io penso che abbia quasi azzerato gli spostamenti internazionali degli italiani e sarà interessante, estremamente interessante valutare quanto successo con la riapertura delle frontiere. Gli spostamenti rinviati saranno stati in parte già recuperati o lo saranno per esempio entro quest'anno? E la crisi economica, questo è un altro aspetto particolarmente forte in Italia ma anche nei paesi europei di destinazione dei nostri connazionali e la destinazione principale è proprio l'Europa. Come agirà sulle direttrici migratorie internazionali dei prossimi mesi e anni? È vero, sono domande importanti a cui però al momento non siamo ancora in grado di dare una risposta ma certamente sono aspetti che vanno approfonditi, è necessario tra l'altro anche un monitoraggio anche per definire le strategie più adeguate. Ma io proprio su questo, questo è un tema che consente molto efficacemente di introdurre l'intervento di Alessandra Minello perché diciamo che uno degli elefanti nella stanza di questa pandemia si chiama smart working, ha spostato e cambiato i comportamenti, aspettative, profili lavorativi di molti, penso a molti giovani in ingresso sul mercato del lavoro in un contesto di diffusa e non regolata lavoro a distanza, in che modo impatterà, come sposterà, come cambierà i comportamenti. Io mi rendo conto che sono ragionamenti molto qualitativi e in un contesto come quello dell'Istat è difficile accontentarsi di considerazioni qualitative ma questo è, in questa fase non c'è molto altro. Istat ha stimato in 8,2 milioni potenziali lavoratori che potrebbero stabilmente proseguire con un'attività lavorativa da remoto, non è chiaro che tipo di regolamentazione ci sarà. La prima domanda per Alessandra Minello dell'Università di Firenze è proprio questa, dal punto di vista, se la vogliamo vedere in positivo, perché ovviamente la parte positiva dello smart working è notevole, dal punto di vista della migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e dei migliori equilibri diciamo che poi impattano sulle dinamiche. Noi qui parleremmo teoricamente di demografia ma appunto la demografia diventa un denominatore un po' lasco, ma che impattano sui comportamenti che poi hanno anche effetti demografici. Ecco, questa situazione di smart working è diffuso, che abbiamo sperimentato e che ancora non è stato regolamentato. Lei come lo ha letto e che tipo di prospettiva immagina? Io più che di nuovi equilibri parlerei di auspicabili nuovi equilibri, nel senso che il lockdown chiaramente ha cambiato la quotidianità un po' di tutti, ha cambiato la quotidianità anche appunto attraverso lo smart working, l'aumento del lavoro da casa. Però ci siamo accorti, e questo dal punto di vista quantitativo, perché di fatto sono state fatte alcune indagini che hanno rilevato chi si occupava nell'ambito domestico, sia del lavoro domestico sia del lavoro di cura. E quello di cui ci si è resi conto è sostanzialmente che l'equilibrio appunto auspicabile non si è trovato. Bisogna premettere che partiamo da una situazione di base già di non equilibrio, intendo l'equilibrio tra generi. Le donne ad oggi si occupano più del lavoro di cura e del lavoro domestico non retribuito rispetto agli uomini a tutte le latitudini, nel senso noi pensiamo all'Italia, che è un paese in cui questa divisione diciamo di genere è eclatante, ma in realtà anche nei paesi del nord, quelli in cui la parità di genere è più diffusa, anche lì sono le donne quelle che prevalentemente si occupano di questo tipo di attività. Anche quando le donne lavorano, il tempo in termini di ore dedicate al lavoro di cura, al lavoro domestico è maggiore. Appunto attraverso le delle indagini che sono state fatte durante il periodo del lockdown, quello che si è visto è stato che gli uomini sì sono stati più coinvolti, sono anche aumentate le coppie che hanno condiviso equamente la cura dei figli, però di fatto lo sbilanciamento di genere persiste. Noi non possiamo ovviamente non considerare il fatto, quello a cui accennava il professore Strozza, il fatto che uno dei settori più in crisi in questo periodo è stato proprio la cura, non c'era più la possibilità di esternalizzare la cura, non c'era più la possibilità di fare riferimento ai servizi educativi e quindi in questo contesto ci si è trovati con la necessità di gestire non solo i lavori domestici, non solo la cura ma anche la scuola, l'assistenza ai figli attraverso la didattica, la didattica online. Ora veniamo appunto da una settimana di faticosa ripresa delle scuole, c'è paura, forse ci siamo già dimenticati però, anzi in realtà no, le famiglie sicuramente non se le sono dimenticate quanta è stata la fatica nel gestire i mesi di totale chiusura delle scuole in casa e con i ragazzi a casa. Ecco anche in quel caso la gestione della scuola a distanza è ricaduta prevalentemente sulle spalle delle madri. In questa situazione che era insolita c'era inoltre, oltre appunto alla gestione del lavoro di cura e del lavoro domestico, un disagio in più, un disagio dal punto di vista psicologico, mentale, nell'affrontare la situazione che noi tutti abbiamo affrontato. Ecco i dati ci parlano di un ruolo prevalente delle madri anche da questo punto, delle donne anche da questo punto di vista, della gestione diciamo del carico mentale, del supporto emotivo, tutto questo in un contesto il nostro che già è fallace insomma da questo punto di vista, non è che partivamo da una situazione di servizi che mettevano la parità e questo equilibrio al centro. Ora diciamo che questa pandemia ha fatto emergere queste differenze di cui noi eravamo già consapevoli e che sono diventate consapevoli diciamo, c'è stata più un'acquisizione di consapevolezza diciamo, o almeno lo speriamo in molte famiglie. Diciamo che uno degli effetti che sicuramente su cui gli analisti sono concordi è che questa pandemia ha aumentato le diseguaglianze in molti ambiti, quello a cui lei accennava è uno degli ambiti cruciali, ma dal punto di vista dell'inclusione e esclusione, dal punto di vista dei livelli retributivi, della povertà, insomma senz'altro ha in qualche modo polarizzato ulteriormente una società che già aveva degli squilibri. Ecco, secondo lei un tipo di nuovo nuovo percorso di conciliazione, come può incrociarsi virtuosamente con una regolazione di questo smart working, ammesso che sia questo uno dei percorsi da immaginare per l'uscita da questa crisi? Io penso di sì che sia uno dei percorsi da immaginare, partiamo da questo punto, dal fatto che ci sia bisogno anche di cogliere questa occasione per riflettere sulle diseguaglianze che sono emerse. Destinare ad esempio fondi alle attività di cura potrebbe essere uno dei passi da fare, considerate che noi siamo in un paese in cui ci sono ancora molti settori specifici da potenziare per ridurre questo tipo di diseguaglianza. Pensiamo per esempio al fatto della scarsità di presenza di asili nido nel nostro paese che ad oggi coprono il 25% del totale dei bambini che sono i potenziali utenti, quando l'obiettivo dell'Europa per il nostro paese era di raggiungere il 33% ormai dieci anni fa. A questo tipo di servizi accedono prevalentemente figli di genitori occupati, questo è un settore nel quale è importante investire perché aiuta sia a migliorare appunto la conciliazione, ma anche è chiaramente un sostegno alla partecipazione femminile al mercato del lavoro. Da un altro punto di vista se vogliamo agire sempre in questa direzione si può pensare al congedo parentale, il fatto che ad oggi è preso quasi nella totalità dalle donne con un congedo di paternità obbligatorio per gli uomini che dura solo pochi giorni e questo quindi ci parla oltre che di differenze strutturali anche di un substrato culturale in cui questo tipo di disuguaglianza non è mai stata presa in considerazione in maniera totale per portare a una sorta di equilibrio. Quello che è auspicabile è che se dovessimo trovarci in un'altra situazione del genere dovremmo arrivarci con una mentalità già diversa, con dei servizi diversi e con una mentalità diversa. Professoressa Minello, una domanda che faccio a lei ma che poi provo a proporre anche agli altri due ospiti. Voi siete dei demografi, una delle questioni che abbiamo sotto gli occhi da molti anni nel nostro paese è un trend di natalità decrescente e costantemente decrescente, noi abbiamo i baby boomers che stanno per lasciare il mercato del lavoro, nei prossimi anni lasceranno il mercato del lavoro per andare in pensione, questi baby boomers sono nati dopo un altro evento in fausto e prolungato che era la seconda guerra mondiale. Dal vostro punto di vista che cosa possiamo aspettare? È immaginabile che questa pandemia in qualche modo tocchi, incida questa dinamica, questo mega trend che riguarda non solamente il nostro paese di denatalità e in che modo? Sì, durante la pandemia c'è stata un po' una diffusione nella stampa di ottimismo da questo punto di vista, che era in realtà fondato su dati molto poco scientifici, semplicemente sul pensiero del dire siamo tutti a casa e quindi non c'erano più bambini. Ecco, in realtà non è ovviamente così semplice, come diceva lei noi veniamo da un periodo di bassa fecondità che dura a lungo, il tasso di fecondità totale in Italia l'anno scorso era di 1,29 figli per donna, quindi molto basso, era il frutto sia appunto di una questione strutturale del fatto che ci sono meno giovani, meno donne in età fertile, sia sicuramente il frutto di una crisi economica e di cambiamenti sociali grandi che abbiamo vissuto negli ultimi decenni. sicuramente c'è un effetto anche della percezione, dell'incertezza vissuta sia individualmente sia dal punto di vista proprio oggettivo, nel senso di partecipazione al mercato del lavoro, sappiamo che la crisi economica ha inciso sui tassi di disoccupazione ma anche sulla diffusione di lavori a tempo indeterminato, sia proprio una percezione di insicurezza generalizzata che sicuramente questa pandemia ha contribuito in qualche modo a far crescere. I primi risultati, penso a un lavoro di Francesca Luppi, Bruno Arpino e Alessandro Rosina pubblicato di recente, in cui si guardano alle intenzioni di fecondità, perché chiaramente noi ora non abbiamo informazioni sulla fecondità ma sulle intenzioni, quindi sul desiderio, sulla volontà di avere dei figli nel futuro prossimo, mostrano che in vari paesi europei in realtà c'è stato un declino nelle intenzioni di fecondità durante il lockdown. Questo è stato particolarmente pesante nel nostro paese, perché la tendenza non è tanto a posporre quanto a rinunciare ad avere dei figli in futuro. Questo significa che in un paese come il nostro in cui la fecondità è tra le più basse d'Europa, in cui ci sono tutti i problemi strutturali di cui accennavo prima, i tempi che si prospettano probabilmente sono particolarmente bui. Ecco, fare delle previsioni a lungo termine è difficile, non c'eravamo ancora risollevati dalla crisi economica e questa nuova crisi che è più dal punto di vista medico, della salute, non ci voleva da questo punto di vista. Quindi le previsioni io non le so fare, però non penso… Non si aspetta un cambio di trend. Non drastico e non rapido sicuramente. Posso girare la stessa domanda per una risposta veloce prima a Melegaro e poi a Strozza? Io concordo con la collega e anche io ho delle resistenze all'ottimismo. Penso che chiaramente ci sia la necessità di differenziare, ecco, guardando, osservando il panorama globale, è sicuramente necessità di differenziare paesi industrializzati rispetto ai paesi in via di sviluppo, rispetto a questi trend di fertilità. Quindi sono d'accordo con Alessandra sul fatto che effettivamente nel contesto italiano e in un contesto europeo le difficoltà economiche, le difficoltà di gestione abbiano avuto un impatto e ce lo dicono anche appunto i primi studi sulle intenzioni e quindi tenderei ad avere una visione piuttosto negativa o comunque di andamento del trend in decrescita. Questione diversa forse nei paesi in via di sviluppo dove nei momenti di crisi, guardando anche il passato, c'è questa ricerca di sostituire alla mancanza di risorse di figli producendone ancora di più, quindi aumentare la fertilità nei momenti di crisi può essere un modo per aumentare gli introiti per le famiglie e quindi c'è una tendenza magari opposta rispetto a quella che vediamo nei paesi industrializzati. Quindi sì, sono d'accordo comunque per quanto riguarda la... Strozza e poi una domanda che torno con una domanda ancora melegaro su un fronte completamente opposto. Come la vede lei? Bene, allora io in realtà sono completamente in linea con quanto ha detto Alessandra Minello prima e con le integrazioni di Alessia Melegaro. Voglio però telegraficamente aggiungere un elemento ulteriore di riflessione. Oramai in Italia il 20% dei nati è da madre straniera, quindi una componente davvero importante, il 20% a fronte di una presenza straniera in termini di residenza del territorio italiano è intorno al 9%, poco meno del 9%, quindi è un aspetto importante e i livelli di fecondità degli stranieri sono estremamente variabili da nazionalità a nazionalità, dicevamo che ci sono tante nazionalità, ne servono 5 per raggiungere il 50% della presenza e 16 per considerare i tre quarti, quindi è un mondo a colori molto vario e anche in termini di fecondità ci sono grandi differenze, ma in sostanza il tasso di fecondità totale del momento delle donne straniere rimane intorno, è rimasto intorno ai due figli per donna negli ultimi anni, quando quella delle italiane, prima Alessandra parlava del totale della fecondità in Italia e diceva 1,29 ma quella delle italiane è a 1,2 anche meno, quindi con una differenza importante anche l'età media al parto, nonostante la fecondità più alta delle donne straniere, l'età media al parto delle straniere 29 anni, all'incirca tre anni, tre anni e mezzo in meno rispetto all'età media delle italiane, quindi se c'è una componente per la quale in realtà il quadro risulta ancora più articolato è quello degli stranieri che rappresentano ormai per quanto riguarda le nascite una parte importante, una nascita su cinque e qualche anno fa nel 2000 il primo nato era un ragazzino cinese, il primo nato dell'anno e quindi questa è un'altra componente importante, la domanda è la pandemia e la connessa crisi economica come hanno impattato sul fare figli tra le donne straniere a un certo e che effetti produrranno, quantomeno nei mesi a venire, credo che l'effetto possa essere simile a quello che riguarda le donne italiane, ma c'è un ulteriore tema che non so se posso approfondire ma che vi segnalo soltanto perché abbiamo parlato di figli e i figli degli immigrati a scuola, in questa fase del distanziamento, quindi della didattica a distanza, sono un collettivo preziosissimo per la nostra società che allo stesso tempo rientra a talle categorie che più hanno risentito in negativo di questo periodo terribile. Questo intervento è molto interessante perché ci fa capire e ricordare come anche dinamiche come il tasso di fertilità di un paese è a questo punto un indicatore globale, nel senso che se in un paese come il nostro un bambino su cinque ha una madre straniera che è in Italia per lavoro o per ragioni di necessità, questo significa che appunto ancora una volta sono dinamiche globalizzate che a questo punto riguardano tutti noi. Io vorrei chiudere con una domanda ad Alessia Melegaro che non so se è una domanda ingenua o se è una domanda che ha un senso, ma io la provo a farlo ugualmente. questo autunno-inverno ci saranno le normali influenze che si sovrapporranno alla dinamica, a questa coda del coronavirus. Ecco, dal punto di vista, con i vostri modelli di analisi quantitativa, che fenomeni immaginate possano determinarsi e non abbiamo parlato di mortalità e di misura della mortalità con questa epidemia, ma ecco ci sarà un impatto cumulato e se sì di che tipo con appunto coronavirus in uscita speriamo e le normali influenze del prossimo inverno? È una domanda complessa in realtà e penso che risponderei menzionando a due fenomeni che potrebbero succedere che sono anche abbastanza antitetici. Da una parte chiaramente avere delle infezioni e delle comorbidità, quindi un'infezione sopra quell'altra può aumentare la severità e quindi può esserci la presenza di casi più severi, più pericolosi che devono essere trattati con più attenzione e quindi potremmo trovarci in una situazione più difficile rispetto agli anni precedenti. Dall'altra parte se c'è una cosa che questa pandemia ci ha insegnata è quella dell'impatto che queste misure comportamentali che stiamo adottando da mesi di distanziamento sociale, utilizzo della mascherina, l'impatto di queste misure è sull'andamento effettivo dell'infezione, dell'epidemia che ha un impatto forte perché abbiamo visto quando ci hanno chiuso tutti in casa la curva epidemica si è praticamente annullata, è scesa. Quindi io credo che anche in questa fase un minimo di comportamenti diciamo attenzione rispetto al distanziamento sociale, comunque attenzione nelle scuole, attenzione per gli anziani e l'esposizione degli anziani a situazioni di rischio eccetera, possa avere anche un impatto su quelle che sono, su quella che è l'epidemiologia dell'influenza stagionale normale. E quindi da quel punto di vista mi aspetterei una stagione più tranquilla rispetto agli anni precedenti. Quindi come sempre previsioni è difficile farne e bisogna stare in osservazione, vedere un po' anche la circolazione del virus, che tipo di caratteristiche che avrà l'influenza stagionale di quest'anno, quali sono le fasci d'età che colpirà di più. Insomma ogni anno è un po' una ricerca di informazioni, di caratteristiche epidemiologiche e poi vedere come il comportamento delle persone impatterà e come questo si evolverà nel tempo. Quindi per quanto tempo ancora noi riusciremo a mantenere dei comportamenti che già adesso insomma sono abbastanza, è abbastanza peggiorata la situazione, però comunque qualcosa si sta ancora facendo rispetto ad una situazione di normalità che sembra che abbia anche un impatto. Quindi ci auguriamo, spieghiamo che questo possa avere anche un impatto per tutte quelle che sono le altre infezioni stagionali. Quindi diciamo che i comportamenti che abbiamo imparato in questi mesi di distanziamento sociale, di maggiore attenzione, di minori contatti potrebbe in qualche modo contenere la diffusione delle cosiddette normali influenze stagionali, insomma. Sì, potrebbe avere un impatto, senz'altro alla fine sono infezioni respiratorie che si trasmettono bene o male attraverso gli stessi canali, hanno le stesse caratteristiche e quindi l'utilizzo della mascherina o comunque il distanziamento di un metro, un metro e mezzo sono sicuramente dei comportamenti che riducono l'esposizione al rischio. Quindi sì, speriamo. Ho capito. Io ringrazio tutti. Secondo il mio orologio abbiamo superato i 50 minuti e ne avevamo circa a disposizione 45, per cui io mi fermerai qui. Tante sono le cose che avremmo potuto approfondire sicuramente dal punto di vista dell'epidemiologia, dal punto di vista dei comportamenti e dal punto di vista di chi arriva e chi lascia il nostro Paese, perché il nostro, come tutti gli altri Paesi, è immerso in dinamiche che oramai sono dinamiche mondiali. Ecco, speriamo di dimenticare velocemente questa dinamica pandemica, speriamo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità possa al più presto dichiarare chiusa la pandemia. Io non lo so quando questo arriverà e sarà una data da assegnare sul calendario per gli anni a venire. Ancora grazie a tutti. Grazie.